Acqui Radio Web presenta Buongiorno amici di Acqui Radio Web, oggi ci troviamo in Piazza Levi, la giornata uggiosa, ma noi siamo sempre sul pezzo e stiamo per andare a visitare la mostra di Renzo Cordara dal titolo Big Bang Experience. Siamo per entrare qui a Palazzo Robellini, proprio nell'ultimo giorno di apertura della mostra, e poi incontreremo appunto l'artista. Siamo con il noto artista quese Renzo Cordara, buongiorno signor Cordara, e siamo qui appunto all'interno della sua mostra come nasce già il titolo, Big Bang Experience. Big Bang Experience, cioè l'esperienza della creazione, della nascita dal nulla a poi arrivare diciamo alla massa, alle galassie, ai pianeti, ai satelliti, e tutto ciò che comporta sulla calotta stellare. Già da bambino ero appassionato vedendo, usando il cielo, mi sono sempre domandato che bello, come mai, cosa c'è l'assurdo? E allora dopo tanti, tanti anni ho voluto impressionare, immortalare nelle mie piccole cose, nella tela ciò che io sentivo, sentivo, sentivo dentro. E questo è quello che, se avete fatto queste riprese, è quello che vedete, penso di essere riuscito, ho avuto un buon riscontro e questo mi ha fatto piacere, perché è un tema un po' diverso questo. Mi ha fatto anche piacere che sono venuti dalle scolaresche e questi ragazzini sono stupendi perché hanno chiesto tante domande, sono stati veramente impressionati da quello che ho fatto, cioè in questo piccolo, perché non possiamo rappresentare l'universo in quattro tele, però nell'insieme, cioè, avere catalizzato questa poca roba, cioè questo mi ha fatto piacere. Quindi complimenti per questo suo ennesimo successo. Grazie, mi fa molto piacere e colgo l'occasione per ringraziare tutti quelli che sono venuti, quelli che mi hanno aiutato, quelli che mi hanno appoggiato, sia dalla Giunta Comunale, voi come Radio, che vi scego molto, e tutto ciò che mi ha dato questo riscontro, dico grazie, veramente, sono anche commosso. Grazie a lei, allora, grazie davvero. Per ultimo vogliamo ricordare agli amici di Aquiradio Web che possono appunto trovare le opere d'arte di Renzo Cordara nel suo studio d'arte in via 307 al terzo piano, qui ad Aquiterme. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.